21 degenero 21 si sa come tornerà a casa andè vento qui a 99 metri ma certo gli fa il nevono a 99.0 però qui c'è neve quanti? il vento sali dai sul tetto gli fa la neve terra nulla ah però qui mi sta nevicando un po' mi bagniamo ah quindi qui è arrivata a casa quindi è proprio si proprio per 20 metri o per 30 metri che schifo è proprio spronse è il vento qui non hai visto la costa siciliana? comunque le profitto ma no no che verrà 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 se fosse che verrà 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 nemmeno il 2010 anche in terra c'è questo gioiano questo misturo guarda la che fanno quando dovete si vola si